Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha Loa ed oggi volevo fare il video acquisti di maggio 2014. Come sempre c'è un sacco di roba e come sempre partiamo dagli anime. Come ogni mese ho acquistato Sunpei, il ragazzo pescatore, i rivuti 13, 14, 15 e 16. Prima lo acquistavo, però non lo guardavo sulla fiducia che poi mi sarebbe piaciuto lo stesso e adesso ho finalmente iniziato a guardarlo avendo anche comprato insomma parecchi devudi e devo dire che per ora mi piace parecchio, penso sia uno di quegli anime che vale la pena tramandare, insomma valga la pena di essere ricordato. Per l'Akiredo ho acquistato il film di Dragon Ball Z, La Battaglia degli Dei, film uscito recentemente anche nei nostri cinema e devo dire che mi è piaciuto parecchio. L'unica cosa che non mi è piaciuta diciamo del film sono le incongruenze temporali e non che comunque ogni appassionato appunto del manga, dell'anime può benissimo notare ma a parte queste cose direi che è molto bello vedere come il film vuole intrattenere con il vecchio stile di Dragon Ball semplice e divertente quindi sicuramente un acquisto consigliato. Iniziamo con i manga e ovviamente con Star Comics di cui ho acquistato i volumi di Conan 78 e 79 e con questi ho finalmente finito questo recupero che dura da tre anni, no non sto scherzando, è da tre anni che compro sempre il Detective Conan ogni volta che entro in fumeteria e finalmente l'ho concluso e devo dire che nel corso di tutto questo tempo ci sono state anche diverse persone che mi hanno chiesto se valesse veramente la pena di essere recuperato e io vi rispondo con no per più che altro perché sono davvero tantissimi numeri e io non sono rimasto particolarmente ben impressionato. Diciamo che sì qualche volta mi prende qualche volta no ma in generale penso che questo sia un tipo di manga che possa essere apprezzato più che altro da lettori che conoscono sì la storia di fondo ma più che altro che sono lettori occasionali perché veramente dopo tutti questi volumi il manga appare troppo secondo me monotono. Sensei e i Cavalieri dello Zodiac volumi 15, 16, 17 e 18 più vado avanti insomma più questa serie mi ha passione e mi intrattiene sempre molto bene e devo dire che mi dispiace non averla recuperata un po' prima perché mi sembra una di quelle serie che si apprezza benissimo anche quando si inizia proprio a leggere manga quindi per tutti quelli che diciamo hanno iniziato da poco a leggere manga penso che Sensei Aya possa essere benissimo uno dei manga diciamo di partenza perché pur non essendo particolarmente complesso intrattiene molto bene e altrettanto appassiona. Un altro recupero Star Comics è Fairy Tail volumi 12, 13 e 14 questo mese purtroppo non sono riuscito a leggere i volumi qui presenti però in generale sapete come la penso su questa serie ovvero una serie divertente, simpatica che si fa leggere benissimo. Uno dei recuperi Star Comics più apprezzati da me negli ultimi tempi è Maison Ikoku di cui ho acquistato tantissimi volumi dal 16 al 26 come sempre una serie molto simpatica e divertente è composta da 27 volumi, io appunto sono arrivato al 26 e il 27esimo è introvabile quindi preferirei andare avanti. Questo mese ho iniziato una nuova serie collegata a una serie che già seguivo prima ovvero Steel Bull Run, la settima serie delle bizzarre avventure di Jojo appunto con la conclusione dell'ultima appunto edizione ho voluto iniziare questa settima serie che da molti è addirittura considerata la migliore diciamo che per motivi legati comunque alla storia e al pubblico è molto più slegata alle altre serie io ho deciso di non leggerla mentre la compro ma di leggerla tutta insieme perché penso insomma Jojo secondo me è il tipo di manga che ti intrattiene benissimo sia se lo leggi mentre lo segui ma soprattutto se lo segui tutto ad un fiato quindi penso proprio che farò così tra l'altro la serie non è infinita diciamo non sono 24 volumi ma niente di più insomma Tutto Ritmo al Riborno volume 19 serie che mi piace in generale ho iniziato a seguirla cioè diciamo che l'ho continuata più che altro perché quando è uscita all'inizio non ho comprato diciamo in contemporanea i numeri vecchi e nuovi ho acquistato solo quelli vecchi e quindi adesso mi ritrovo a dover recuperare tutti quelli usciti finora comunque ripeto una serie che in generale mi piace che penso possa essere consigliata una delle uscite più importanti per questo mese è sicuramente One Piece 71 su cui ho anche fatto un focus on volume che mi è piaciuto davvero molto sia per i nuovi propositi ma anche per i vecchi volti che comunque si rivedono in questo volume vabbè come sempre One Piece pieno di spiegazioni pieno di rivelazioni se volete sapere qualcosa di più appunto andate a vedere il focus on che ho fatto perché questo volume mi ha davvero sorpreso The World God Only Knows volume 19 volume abbastanza grosso sicuramente più grosso dei volumi precedenti al prezzo di 4,30 euro ricordiamo che da questo mese tutte le serie Star Comics passano a 4,30 euro tranne One Piece e Fairy Tail questo volume non sono riuscito a leggerlo purtroppo però in generale diciamo che comunque nella serie si respira già un'aria diciamo di conclusione insomma si vede che siamo quasi arrivati appunto alla fine in Giappone se non sbaglio è già uscito l'ultimo numero che è il 26 Dragon Ball Evergreen Edition volumi 31 e 32 il 31 era uscito lo scorso mese ma io l'ho acquistato con un po' di ritardo non mi sembra fosse presente nel precedente video acquisti in ogni caso Dragon Ball come sempre da me molto apprezzato anche se la saga di Sally insomma non è fra le mie preferite Shaman King Flowers volume 2 serie iniziata da poco che comunque mi piace per adesso differisce per alcune cose dalla serie sicuramente originale come detto appunto nel precedente video acquisti inizia in maniera molto molto diversa ed è estremamente legata chiaramente alla serie originale quindi inutile ripetere le stesse cose serie adatte a chi Shaman King l'ha letto e per il momento serie abbastanza interessante una serie iniziata da poco sempre per Star Comics è Go Mad and Shoot and Dodge di cui appunto ho letto i due volumi usciti finora e devo dire che è una serie anche interessante l'unico problema è che è un po' confusionaria io non ammetto di non essere riuscito a seguirla benissimo forse sono stato distratto io però appunto per me è una serie un pochino insomma è una serie un po' strana comunque è abbastanza interessante insomma per quello che sono riuscito a capire quindi penso di continuarla in ogni caso sono solo 7 volumi The Seven Deadly Sins volume 2 è uscito pochissimo tempo fa forse era meglio se rientrava nei video acquisti di giugno comunque appunto l'ho acquistato pochissimo tempo fa e devo dire che la serie per il momento promette bene anche in Giappone mi sembra non siano usciti tantissimi volumi quindi non so per quanto tempo da noi potrà continuare bimestrale però per adesso è una buona serie una serie che consiglio abbastanza classica diciamo però ha anche qualcosa di originale una delle ristampe più attese da me è quella di Capitan Subasa edizione proprio gigantesca saranno 330 o 340 pagine alla comoda cifra di 6 euro che è davvero secondo me una cifra stracciata appunto per un'edizione così grossa con bandella addirittura la attendevo da molto più che altro perché sicuramente è uno dei manga sportivi più amati e più famosi di tutti i tempi nonché sicuramente il più famoso sul calcio e purtroppo la serie originale cioè la prima edizione Star Comics era ed è attualmente esaurita quindi molto bene questa nuova edizione adesso inizierò a leggerla mi sembra che dovrebbero sicuramente uscire una volta al mese i volumi e dovrebbero essere 21 in totale un'altra ristampa attesissima quella di You degli Spettri volume 1 apprezzo tantissimo io questa cosa della Star Comics di ristampare tutti i suoi manga classici che sicuramente meritano molto di più di certe cavolate moderne ovviamente come ogni perfect che si rispetti questa ha le pagine a colori grande formato insomma tante cose il prezzo è di 7 euro e in totale sono 15 volumi anche questa è uscita pochissimo tempo fa quindi non l'ho letta l'autore è lo stesso di Hunter Hunter e spero vivamente che la Star Comics continui a ristampare le sue serie classiche perché ce ne sono ancora parecchie che ormai sono finite nel dimenticatoio passiamo a J-Pop di cui ho acquistato Amon volume 1 serie diciamo della Gonagai Collection rientrata appunto nella Gonagai Collection più che altro perché è strettamente legata alla serie originale appunto di Gonagai di Devilman anche se in realtà sia la storia che i disegni in questo caso sono di un altro autore non ho intenzione di leggerla adesso penso che la leggerò tutta insieme quando sarà composta da da 6 volumi l'unica cosa che un po' mi preoccupa sono i pareri in giro che sento dire che è una serie bella solo per il primo volume alcuni dicono che è una serie bella in generale quindi pareri abbastanza contrastanti spero ovviamente che sia in generale una serie bella e vedremo sempre per J-Pop Liar Game volume 12 io non acquisto tanta roba J-Pop ma questa è sicuramente la loro serie che al momento mi prende di più appunto consiglio sempre questo manga e siamo per adesso arrivati nel volume 12 in Giappone si è già entrati nell'arco finale adesso non so quanti volumi sono usciti comunque da loro sicuramente più di 15 ultimo acquisto per J-Pop Senti Young Men volume 3 serie che in pochi speravano di avere qua in Italia e invece alla fine non solo è arrivata ma è anche anche abbastanza apprezzata perché comunque le vendite sembra sembra siano discrete è una serie divertente sicuramente in certe scene purtroppo ha molti riferimenti alla cultura giapponese quindi a volte il senso delle frasi delle situazioni non si coglie benissimo quindi non non scatta la risata diciamo e comunque a me piace è una serie che già dalla trama è abbastanza divertente quindi la continuo di sicuro passiamo a Goen di cui ho acquistato il volume 4 di Karakuri Circus il volume in cui diciamo secondo me inizia realmente la storia cioè perché i primi tre volumi mi erano piaciuti ma non troppo invece questo volume l'ho apprezzato sicuramente molto di più e diciamo appunto è qua che secondo me inizia le cose iniziano a farsi sul serio i primi tre volumi erano un'introduzione se vogliamo quindi a tutti quelli che hanno droppato magari la serie e non totalmente convinti io consiglierei di leggere almeno fino al quarto volume per poi prendere una decisione perché per adesso insomma la serie sta ingranando bene quindi sicuramente merita di essere portata avanti sempre per Goen ho acquistato due come noi volume due e tre entrambi a un'offerta speciale perché diciamo sono i primi volumi mi aspettavo molto da questa serie e devo dire che non è troppo divertente mi aspettavo forse qualcosa di più appunto più che altro perché è una serie di 37 volumi non riesco a capire come con 37 volumi una serie del genere possa andare avanti probabilmente cambierà perché di sicuro così non non può essere comunque non è tutta non è proprio malaccio per adesso la porto avanti poi comunque al quarto al quinto volume deciderò veramente cosa farne passiamo a Planet Manga e quindi a Berserk Berserk Collection volumi 36 e 37 con questo finito tra virgolette il recupero manca solo quel benedetto volume 23 che mai troverò praticamente per il resto Berserk vedremo perché per adesso la lettura è ancora ferma e non so dare un'opinione riguardo ai volumi appunto appena acquistati una delle serie che nell'ultimo periodo mi stanno prendendo di più in assoluto è sicuramente Eyeshell 21 volumi 15 16 17 e 9 volume 9 appunto perché mi mancava perché è stra mega esaurito e sono riuscito a trovarlo per sola fortuna praticamente spero di riuscire a trovare il 10 che è l'unico buco che mi rimane da tappare per il resto la serie merita sicuramente di andare avanti perché è davvero divertente e appassionante Monster volume 5 in totale sono 9 per adesso ne acquisto uno al massimo due al mese perché 13 euro non sono cosa da poco in ogni caso l'edizione è anche bella però sono sempre 13 euro chiaramente è una serie che come mi è stato consigliato da tantissime persone valetta tutta insieme perché a quanto pare ti prende tantissimo spero ovviamente sia così ed è lo stesso autore ha acquistato anche Yawara che è uscito questo mese volume 8 serie probabilmente di genere totalmente diversa però anche qua è una bella serie che ti prende che insomma è molto molto divertente l'attacco dei giganti volume 11 in cover A e anche in cover B ho acquistato entrambe le edizioni perché comunque secondo me erano molto belle entrambe ho visto che tutti hanno preso questa però a me piaceva anche questa insomma le ho prese tutte e due poi tra l'altro la serie comunque mi piace parecchio quindi anche per quello sicuramente ho preso entrambe le versioni non l'ho letto per un motivo però specifico in questo caso cioè che lo voglio leggere più avanti perché adesso i volume usciranno uno dietro l'altro e poi ci sarà il solito bucone che la Planet Manga lascia praticamente lascerà come l'anno scorso in cui non ci sarà l'attacco dei giganti non uscirà più quindi io consiglio di fare questa cosa cioè non leggerlo adesso che escono tutti velocissimamente ma di dilazionare un po' la lettura perché se no appunto succede come l'anno scorso che passa quasi un anno fra un volume e l'altro fra il 9 e il 10 Rainbow volumi 7 e 8 serie per me straordinaria davvero io non leggo tantissimi serie più che altro non ne ho letti tantissimi quindi non è che posso dire questo è uno dei serie più belli di tutti i tempi però per me davvero è un serie straordinario mi sorprende che non sia arrivato quando è uscito perché di fatto è un manga degli anni 2000 quindi poteva benissimo arrivare in quel periodo invece è arrivato solo adesso comunque bellissima serie composta da 20 volumi consiglio assolutamente di recuperarla perché è davvero eccezionale Jammy Napoleon volume 7 come tutti i volumi usciti finora sicuramente un volume molto bello molto leggero appunto per questa atmosfera molto appunto molto rilassante una serie che consiglio composta da 10 volumi Kenici volume 3 ultimo volume in promozione e dopo aver letto anche questo sono insomma mi ha convinto acquisterò anche i restanti anche se sono più di 50 sono una cosa infinita però penso possa valerne assolutamente la pena perché di solito molti shonen manga di combattimento iniziano così e poi diventano qualcosa di molto più in alto quindi appunto acquisterò sicuramente i prossimi volumi manga di cui parlano tutti manga che sembra aver sconvolto mezzo mondo manga che sembra aver superato Bleach Naruto sembra superare tutti Assassination Classroom volume 1 appunto di questo fenomeno straordinario perché comunque in Italia appena è arrivato tutti l'hanno comprato e anche in Giappone le vendite parlano chiaro quindi penso penso sia un nuovo Big Free anche se dopo lui e One Piece non so chi sia il terzo in ogni caso non l'ho letto quindi lo farò al più presto perché sono troppo curioso di capire che cosa ha di sensazionare questo manga in Giappone mi sembra nessuno usciti 8 ultimo volume e poi si conclude questo infinito videoacquisti Trouble is My Business di Giro Taniguchi per la Giro Taniguchi Maxi Collection penso si possa intuire la grandezza di questo volume con pagina colori bandelle insomma un sacco di roba a prezzo di 17 euro la stessa edizione di Kappa e di Skyhawk per intenderci io penso che anche con questa serie aspetterò diciamo di averla completa per leggerla perché ormai dopo aver letto svariati volumi di Taniguchi posso dire di fidarmi completamente di quest'autore e di conseguenza penso sia meglio diciamo aspettare di averla completa per leggerla perché appunto tutte le opere di Taniguchi finora mi sono piaciute tanto anche se non ho mai letto niente diciamo di non ho mai letto qualcosa di Taniguchi che non fosse un volume unico perché io ho letto finora solo tutte cose Planet Manga e non ho affrontato diciamo le letture delle altre case editrici e lo farò al più presto anche se comunque c'è qualche piccolo problema diciamo per quanto riguarda il costo ma prima o poi diciamo riuscirò ad avere tutto quello che è uscito di Taniguchi perché davvero secondo me è un autore che merita tantissimo e con questo ho concluso vi rimando al prossimo video acquisti alo 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 di Taniguchi